Per la festa della donna quest'anno regala una mimosa fai da te! Ciao! Io sono Letizia, creativa del canale Vivi con Letizia, dove puoi trovare tantissimi progetti di riciclo creativo, fai da te e trucchetti per casa. Nel video di oggi ti mostro ben tre modi diversi per creare delle mimose fai da te che puoi regalare per la festa della donna. Se ti piace uno tutorial come questo, ti consiglio di iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perderti nessuno dei prossimi video. Se invece questo video non ti piace, lasciami pure la tua critica costruttiva nei commenti. Ora passiamo al tutorial, continua a guardare! Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. Nel video di oggi ti mostro ben tre modi diversi per creare... e ciao.